Invece è importante sapere che io ero a Stemio. E ci doveva restare a Stemio? E si fa testa a dire. Sei mesi chiuso in cantina. E che faceva chiuso in cantina? La guerra! In cantina? Sì, mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino. Ed è uscito quando è finita la guerra? No, quando è finita il vino. Ah.